Ancora ben ritrovati da Simone Nardone un appuntamento con l'informazione locale in primo piano quest'oggi operazione antidroga all'enola arrestato un quarantenne di cori e accaduto nella notte tra martedì e mercoledì proprio all'enola quando i militari del posto nell'ambito di servizi di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di cori il quarantenne alla vista dei carabinieri secondo quanto hanno riportato i militari tentava di disfarsi di cinque involucri in cui conteneva della sostanza stupefacente di tipo cocaina a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato anche in possesso di un bilancino di precisione di sostanze utili al confezionamento pomeriggio di fiamme quello di ieri a ponza dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco messi in allarme dalle segnalazioni al 115 l'incendio ha coinvolto la zona di calafeola in un'area impervia dove era presente macchia mediterranea sul posto si sono portati due mezzi aerei della protezione civile della regione lazio nella serata dopo diversi lanci l'incendio è stato definitivamente spento risultano circa due ettari di macchia mediterranea coinvolta dalle fiamme fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte nell'incendio emergenza covid in provincia di latina terzo giorno con zero nuovi contagi rispetto alla giornata di martedì ieri come reso noto dall'asl non si sono registrati nuovi casi di positività nuovo coronavirus né si sono registrati nuovi decessi nessun paziente covid ricoverato presso la terapia intensiva del goretti sono 555 i casi riscontrati in provincia di latina da inizio emergenza gli attualmente positivi rimangono 39 di cui 24 trattati a domicilio ieri festa di san giovanni in vari punti della diocesi dopo la messa celebrata dal vescovo di gaeta luigi vari il nostro direttore don morizio di rienzo ha raccolto proprio la voce del pastore della chiesa di gaeta attualizzando proprio la figura di san giovanni ascoltiamo insieme le parole del vescovo vari è vero no che dobbiamo che gioca aspettate no non ti preoccupa lo taglia a simone quindi questa cosa del giovane importante penso che san giovanni era veramente un ragazzino e credo che sia anche morto molto giovane sto fatto è quella cosa che a me preoccupa di più perché l'economia si riprenderà le cose faranno ma le anime della gente i cuori delle persone si perdono in guaio non dobbiamo rischi che rischiamo di perdere una generazione e qui ci dobbiamo impegnare tanto 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 sapienza con intelligenza poi mi ha colpito l'emozione di oggi questa mattina penso che sarà stata una delle feste meno clamorose ma più emozionanti di san giovanni poi tutto come dicevo è proprio il senso di famiglia che abbiamo un po ritrovato magari sarà un frutto buono di questo tempo e un saluto a radio civi dagli ascoltatori entriamo in studio gli appuntamenti vi ricordiamo che domani venerdì 26 giugno alle 21 sulla pagina facebook dell'azione cattolica di gaeta sarà possibile seguire il webinar organizzato dall'associazione vittorio baschle e dall'azione cattolica l'ufficio comunicazioni e la pastorale giovanile dell'arcidiocesi di gaeta il titolo del webinar è creatività e comunicazione socializzati e socializzanti con nicola brunialti e luigi rancilio questa era la nostra ultima notizia vi ricordiamo i nostri contatti potete scriverci su whatsapp al 348 888 1447 vi invitiamo anche a visitare il nostro sito web radio civita in blu punto it un saluto da simone ardone e appuntamento alla prossima edizione del nostro notiziario grazie